Tu vivi qui? No. No, nemmeno io. Sì, lo so. Sembra che qui ci si diverta un sacco. A Jim piace avere gente intorno, la rende felice. Vai a scuola? No. No, credevo che frequentassimo la stessa facoltà, magari senza saperlo. Già, ma non è così. Sono venuto qui perché il mio amico Tipton ha sentito parlare di questo posto all'università. Io sono corsa qui da casa mia perché il mio patrigno è tornato a casa ubriaco, come al solito. Si è arrampicato sul mio letto, si è steso e mi ha abbracciato. Cristo. Già. E tu che ci facevi a letto alle undici di mattina? Ero stanca, va bene? Io avevo già seguito due lezioni. Oh, che bravo. Mi dispiace di averti spusato addosso. Non preoccuparti. Grazie tante, amico. Non vorresti presentare anche me? Giù, è per te, caro. È giù. È giù. Pronto? No, adesso non posso parlare. Non posso parlare perché sono occupata. Se il tuo patrigno ti rende la vita difficile, forse dovresti dirlo al tuo ragazzo. Magari può aiutarti. Non era il mio patrigno e non ce l'ho, ragazzo. Non è vero. Grazie a tutti